Le atmosfere richiamano le elezioni di Don Juan a Carlos Castaneda, lo scrittore peruviano naturalizzato statunitense, che descrisse in libri che avevano folgorante successo l'antica stregoneria messicana. Nuovi mondi, aperture di coscienza, vibrazioni cosmiche, stati di coscienza indotti dalla mescalina, non manca nulla nella panoplia dello sciamonesimo sradicato che fa colpo sugli occidentali. Questa volta il posto del peyote, come apripista per entronauti in cerca di Iutino, lo tiene allo Iaje, bevando all'ucinogena parte del rituale indigene delle regioni amazzoniche e andine. La febbre del sabato sera Bogotà non corre sui ritmi della musica disco. Una trentina di persone partecipano a un rituale indigeno che sta acquistando sempre più popolarità in Colombia, attirando turisti a tutto il mondo. Sono messicano e sono venuto qui per bere lo Iaje, perché così mi sento attraversare da vibrazioni positive e mi ricarico di energia. Si tratta di un decotto di due piante, ayahuasca e chacruna e contiene un principio allucinogeno presente in molte piante nel fluido cerebro-spinale degli esseri umani. All'inizio produce gonate di vomito in quanto indigeribile, ma subito dopo cominciano le visioni, come spiega il curandero Juan Martin Hamoy. Si tratta di una psicologia spirituale che ti parla direttamente, spiegandoti la verità e quello che devi fare per cambiare la vita. Ma come tutte le vie della mano sinistra, i pericoli non mancano. In aprile un ragazzo britannico è morto. Ci sono stati casi drammatici, ricorda Fabian Sanabria, direttore dell'Istituto Colombiano di Antropologia, in cui i charlatani si sono spacciati per sciamani o guaritori, si sono registrati decessi dopo l'ingestione irresponsabile di Iaje. Don Juan scuote lentamente la testa.